Sono Luca Emanuele Pinto e sono laureato in psicologia. Ho scelto il master Alma Laboris in gestione, sviluppo e amministrazione delle risorse umane proprio per coronare tutte quelle che sono le mie competenze e conoscenze che ho maturato nel corso della mia formazione. Appena laureato ho fatto il tirocinio post lauream, conseguentemente mi sono abilitato all'esercizio della professione di psicologo e nel frattempo ho conseguito un master in test psicologici. Non ero ancora soddisfatto della mia formazione, volevo ancora molto di più ed ecco quindi che sono approdato al mondo delle risorse umane grazie ad Alma Laboris e ho scelto Alma Laboris soprattutto per il taglio profondamente pratico dei suoi corsi nonché naturalmente per il corpus dei docenti che sono leader nei rispettivi campi professionali molto disponibili e soprattutto molto competenti e professionali e grazie al servizio di placement sto continuando a ricevere molte proposte lavorative presso grandi aziende e quindi colgo l'occasione per ringraziare Alma Laboris non solo di questo spazio ma di questa formazione estremamente pratica. Quindi grazie!